Questa mattina a seguito del sopralluogo fatto fin dalle prime ore della mattina in tutte le scuole e in quelle dove si stanno svolgendo i lavori mi sono reso conto che i lavori non termineranno per la giornata di domani e domenica, c'è bisogno ancora di qualche giorno in alcune scuole lunedì, in altre scuole martedì, in altre mercoledì. Voglio ribadire che non sono problemi strutturali, sono i problemini che avevamo segnalato, cioè di sistemazione di un intonaco, di sistemazione di un calcinaccio, quindi lavori di piccola manutenzione, però terminati questi lavori dobbiamo anche sapere che poi le scuole vanno pulite e quindi di concerto con i cinque dirigenti scolastici che ho ricevuto poc'anzi abbiamo insieme deciso che a questo punto è meglio riaprire il 19. Ci sarà questa settimana che servirà a rimettere a posto tutte le scuole e in modo che per il 19 le scuole saranno pronte a ricevere i ragazzi. Questo tra l'altro serve anche un po', come dire, ma non è la motivazione ovviamente principale, serve un po' anche a cercare di rasserenare un po' gli animi. Tutte le nostre scuole non hanno subito danni, tutte le nostre scuole sono agibili, 12 di queste scuole hanno la verifica sismica, sulle altre 19 ci stiamo attrezzando. Ieri il dato che ci ha dato la regione, lo voglio sottolineare, in Abruzzo la media delle scuole con verifica sismica è pari al 3,8%, a Teramo è pari al 39%. Questo non è che mi solleva per quello che c'è da fare, assolutamente, però questo fa capire che noi abbiamo lavorato, se la media delle scuole in Abruzzo che hanno la verifica è sotto il 4%, noi siamo vicino al 40%. Insomma vuol dire che tutto sommato in questi anni ci siamo dati da fare, che che ne dicano poi gli altri, però questo adesso mi interessa attivamente. Grazie a tutti.